parole in movimento questa sera e con antonio evaristo autore del libro dal titolo l'altro uomo il peso delle parole dialoghi edizioni allora il titolo diciamo che oggettivamente è impegnativo il peso delle parole l'altro uomo ed è una storia che stiamo parlando poco anzi sicuramente molto particolare che parte da un esame di stato e tra l'altro in questi giorni siamo proprio nel periodo in cui gli orali sono sono iniziati e quindi quando ho iniziato a leggere questo libro mi ha fatto sorridere perché inizialmente in questo libro si sorride c'è bastiano il protagonista che va a fare l'esame di stato è un bravissimo studente i genitori già sono pronti a festeggiare il suo futuro rosio è già diciamo sì disegnato nell'immaginario di tutti soprattutto di quello dei propri genitori ma all'esame succede qualcosa di particolare antonio raccontacelo tu che cosa succede e poi raccontaci anche un po questa storia che è molto particolare perché succede che una professoressa ben italiano indossava in effetti una normale camicia in un colore ed è anche abbastanza come dire un colore normalissimo il Bruno Van Dyck un marone scuro niente alto credibilmente bastiano si concentra sul colore ma solo su una maglietta una camicetta della professoressa e viene diciamo questa cosa di un patrulletto gli dà un qualcosa che gli impone di dire il contrario di quello che è e quindi mi viene fatta diciamo mi viene dato la solita possibilità agli studenti di parlare un po' di quello che si vuole alla prima domanda qui presenta la visita sulla seconda guerra mondiale ovviamente il triste protagonista è Hitler e quindi gli fanno una domanda chiaramente su Hitler secondo lui in effetti chi era questo personaggio lui che non voglio svelare si incomincia chiaramente ad andare proprio di matto perché dice il contrario ma a molti contrario cioè possiamo dire che ne parla bene molto bene lo elogia in un modo esasperante ed esasperato se così si può dire quasi sì per lui era un santo ovviamente la commissione il presidente diciamo innanzitutto il presidente e lo guarda stavolta anche perché lui era stato presentato con una persona aveva avuto cioè nelle tre prove massimo dei voti aveva dei crediti alti cioè tutti quanti praticamente il cento era l'ode era un assicurato sì sì chiaramente una formalità quindi il presidente diciamo già un poco ora metto alla prova inizia con questa diciamo questa composizione incredibile e chiaramente dice ma ragazzo ma non stai scherzando? allora lui si inizialmente cercano di ricomporrelo al presidente andiamo in altre possibilità probabilmente ma probabilmente mi scusi avrà fatto l'idiota probabilmente perché ha capito che sta che sta comunque è una stampa di stato cioè non è non è non stiamo parlando con tutto rispetto di di Walt Disney perché no gli danno altre possibilità e gli fa una domanda chiaramente diciamo ancora insistono chiaramente sui tre e lui insiste e va a dire che in effetti i campi di concentramento erano dei luoghi diciamo quasi di paviso a quel punto loro sono convinti che i ragazzi non è più sotto diciamo qualche effetto di superfacente ma sta facendo l'idiota essendo lui sicuro del centro lode e quello qua è venuto a diciamo prendersi in giro e quindi sono tutti quanti convinti di bocciarlo perché tu meriti la bocciatura perché vieni qua e ci vieni a rifidere questo non è consentito l'ha fatto una volta una volta sola e quindi diciamo che quello scusami se ti interrompo è il momento in cui la vita di Bastiano cambia radicalmente perché questo lo possiamo dire torna a casa racconta o comunque viene fino a sapere quello che è successo e i genitori che si intuisce essere benestanti non cioè decidono di cambiare completamente atteggiamento di lasciarlo a se stesso deve provvedere economicamente a tutte quelle che sono le sue esigenze e quindi la vita di Bastiano cambia diciamo che questo inizio è un inizio che lascia immaginare un corso della storia di un certo tipo poi ogni lettore immagina qualcosa e invece diciamo che questo libro poi tratta un argomento che è molto importante molto diciamo drammatico ma ci arriviamo gradualmente e torniamo un secondo al titolo perché l'altro uomo o meglio chi è l'altro uomo e anche il sottotitolo il peso delle parole perché in questo libro chi lo leggerà o chi già l'ha letto ci si è già resi conto o si renderà conto dell'importanza che hanno le parole nella nostra vita ma l'altro uomo chi è? L'altro uomo io ne ho incontrati tanti e purtroppo sono quelle persone che ovviamente magari mi viene in mente la canzone di Ronna che ci incontriamo fra cent'anni magari tu li incontri vent'anni prima e sei sicuro che loro sfonderanno perché non possono sfondare per quello che dimostrano poi magari li trovi in qualche diciamo posto magari vicino a qualche chiesa qualche stazione ma non diciamo per aspettare qualcuno per aspettare se stesso nel senso perché oltre se stesso non ha quindi non è possibile lo scioccolo lo riceve chi in effetti lo vede in quelle condizioni io ho saputo di molte persone ho capito perché ho saputo perché alcune persone si sono trovate in quella zona sì quindi per me altro uomo perché io dico l'ho già detto in qualche presentazione e secondo me faccio questa domanda chi è nato Martello è possibile che possa condurre una vita da chiodo non è non è possibile ma bastiano ecco lui è costretto perché come l'ho detto quando il papà li strappa praticamente ecco diciamo altra cosa lui andrà a lavorare a fare un lavoro dignitosissimo assolutamente dignitosissimo però è chiaro che lui ambiva per indole diciamo non a qualcosa di più ambiva a quello a quel qualcosa diventa un altro uomo non solo perché non può più studiare non può più coltivare gli studi e comincia a lavorare perché poi lui ne combina altre perché questo colore gli sarà cagione ecco lì diciamo cose a lui nefaste dico è un efeonismo nefaste perché tutte meritate purtroppo perché lui in quei momenti ecco perché è normale che se io vengo a dirti a ti io stavo con le tue belle fighe magari comincio a fare male delle tue figlie beh chiaramente tu non potrai portare nel bar il caffè capisci ma per forza capisci magari di occhio io ho visto il tuo figlio in questo e poi ti do la mano a rivederci grazie risottolineiamo questo passaggio perché tu l'hai detto prima bastiamo quindi il personaggio di fronte a una parola che fa riferimento a un colore di un quadro di un pittore fiammingo del 1600 ha questo tipo di reazione Van Dyck ho detto bene va dai va dai ho detto l'ho italianizzato e quindi questo determina questa questa anomalia che nel corso del libro poi si cercherà di comprendere il perché è un libro che come dicevamo all'inizio si apre poi ad altre possibili interpretazioni anche altri possibili scenari perché ci sono gli amori che Sebastiano Bastiano vive con due ragazze due amori molto diversi queste due ragazze che sembrano non avere nulla che possa legarle poi si scoprirà che invece hanno qualcosa in comune di molto importante e poi ci sono degli incontri particolari ci saranno i carabinieri i nox la malavita tutto questo per raccontare lo chiedo a te per raccontare cosa diciamo prima c'è una tematica di fondo molto molto seria molto importante per raccontare cosa io vengo da un quartiere di Salerno famosissimo noi per chi conosce il Salerno a seduti di cruce diciamo noi o poi San Giovandriere il centro storico di Salerno ho abitato per 20 anni c'era una bravissima gente purtroppo diciamo tra la brava gente c'erano anche persone in effetti che con i propri figli avevano un rapporto diciamo medio conflittuale assente assente e a seguito o a causa di questa assenza i figli poi chiaramente si perchevano e anche loro io ho avuto per esempio tu sai il mio lavoro è un'assimiglia assente privato online e ho il primo ragazzo che per caso ho diciamo ho seguito i 18 anni adesso non c'è più la nonna quando io lo seguì la quinta di mitare ricordo ancora che il primo giorno mi ballò sui cavoli letteralmente poi noi abbiamo dovuto cambiare diciamo la zona e la nonna pianza pianza perché non potete più se le seconda potete più farlo continuare io non posso dare il nome Robertino io lo ricordo ancora lui per me è un altro uomo perché era un ragazzo talentuoso dalle possibilità veramente enormi ma la cui purtroppo cernita familiare lo blocava se la fosse questa nonna illuminata mamma tossicodipendente papà morto in carcere suicida quindi vuol dire una situazione molto difficile difficile quindi è normale che crescere in queste situazioni non è molto semplice c'è chi non ce la fa e c'è chi non ce la fa non ce la fa non spieghiamo non diciamo se Bastiano ce la farà non ce la farà è chiaro che comunque la cosa dico il rapporto con i genitori è un rapporto particolare perché tra Bastiano e i genitori è un rapporto particolare ripeto a me è venuto in mente perché credo che noi tutti abbiamo la possibilità di dire sono Claudia pienamente Claudia ed è la cosa migliore la cosa più bella che noi diciamo aspettiamo ad essere completamente noi stessi purtroppo per questioni diciamo che si antipongo che si mettono davanti eccetera alcune volte non riusciamo completamente ad essere noi stessi e a causa di questo facciamo le 10 giorni lui fa degli errori enormi sì ma lui li fa fa errori chiaramente imperdonabili perché tutto ciò che gli capita è meritato che non poteva sfuggire diciamo perché per quello che fa poi si scopriamo quale motivo certo non si parla appunto gli svelano questi segreti chiaramente sarà allucinante io al lettore vorrei dire attenzione questo è un ragazzo di 18 anni il libro è ambientato nel 2001 quindi un cambio di secolo di millennio ed è comunque un ragazzo che ha la fortuna perché l'amore si può incontrare ma si può anche perdere lui non lo trova a 18 anni si innamora ed è corrisposto e però però sapevo benissimo un gelatino una pastigliatina mano nella mano questi due ragazzi il nome lo possiamo dire perché è su una sinostra possiamo dire Greta lui e Greta non possono chiaramente vivere questo amore intenso in maniera diciamo perché perché ci sono dei motivi come motivo perché Bastian ne ha compiuto un'altra grossa e a causa di questo ha straparlato ha straparlato e chiaramente poi ovviamente mai si poteva immaginare che avesse straparlato con una persona che poi si scoprirà si scoprirà XX diciamo che è una storia molto articolata e io articolata ma che si anche molto chiara sei riuscito a far entrare il lettore piano piano nella vita di Bastiano e poi a svelare tutti i personaggi che man mano già fanno parte della sua vita e quelli che poi lui con i quali si troverà a interfacciarsi c'è anche un altro tema nel libro che è quello dell'adozione non diciamo le motivazioni per cui Bastiano si scontra anche con questa situazione ma ho avuto l'impressione che tu in questo libro in questo romanzo hai concentrato tutte le difficoltà perché volevi proprio ricollegandomi a quello che dicevi prima evidenziare il fatto che si può nascere con grandi possibilità però poi gli eventi quando si ci mettono tutti insieme possono veramente cambiare il corso di una storia ti chiedo quanto è importante secondo te le persone che quanto sono importanti le persone che ci circondano gli incontri che si fanno ma non sono gli incontri quelli occasionali o quelli che diciamo sì il destino diciamo questo termine ti pone sul cammino e che tu puoi scegliere o non scegliere ma quando poi si tratta dei tuoi genitori cioè sono situazioni per le quali tu non puoi operare nessun tipo di scelta o semmai la tua scelta è successiva ma è una scelta completamente diversa che deve per forza passare attraverso una maturazione un tempo perché tu non puoi sapere determinate cose quindi mi chiedo quanto è importante avere vicino delle persone che realmente ti vogliono bene in modo incondizionato senza secondi fini e quanto è poi importante anche saper scegliere dopo quando tocca a ciascuno di noi cercare di limitare degli errori che ci appartengono forse per nascita diciamo così impropriamente quanto anche in base alla tua esperienza è importante è determinante è determinante è una dimensione determinante perché avere o i genitori diciamo che anche di fronte a diciamo come al classico guardo che ti porta a casa tuo figlio ok o tua figlia ok magari c'è il tuo momento di imbarattito certo quello che vuoi togli a Dio il tuo figlio e quindi non puoi pensare che devo fare che devo aiutare ok se questo diciamo chiamolo cordone viene tranciato a quel punto sai io penso che la cosa è tranciarlo nel 1940 tranciarlo a 17 anni perché poi lui posso dire perché lui fa l'esame di stato proprio al 18esimo è il suo compleanno quindi infatti non l'abbiamo detto questo è il suo compleanno quindi un ragazzo di 17-18 anni tranciargli senza come dicevano io sono campano senza arte né parti senza hai bisogno papà hai bisogno a quella io che ne ho 58 ancora ho perso papà 51 anni quando io ne avevo 23-24 e ancora oggi che parlo con mia moglie dico se ci fosse papà in questo momento beh chiaramente avrei qualcuno a dire papà mi è successo questo questo che devo fare a quasi 60 anni io ancora avrei bisogno di una persona che mi dica no papà io che devo fare questo e quindi è chiaro la tua domanda è veramente ottima concentrata perché avere in questo caso due generatori illuminati ma soprattutto due generatori che ti vogliono bene soltanto per chi è normale rischiamo lo spoiler vabbè comunque ci sono tante guarda posso dire che ci sono tanti tanti colpi di scena tante cose che anche se aggiungi qualche particolare non togli nulla alla lettura perché sono tante cose ma è chiaro che un padre che ti rompe in faccia diciamo l'iscrizione per l'università cose che tu magari già dall'età di 10 anni hai parlato di diventarci alla università e non hai cambiato idea amici non hai cambiato idea è una ferita enorme lui ce l'aveva ce l'aveva quella ma va ti strappa in faccia e diceva trovi un vestito perché in effetti ha la mamma che mi tira diciamo il filo al padre quindi nemmeno lui non ha nemmeno la mamma dalla sua parte a quel punto ma io domando era destinato a diventare un altro uomo però si è dovuto ridisegnare perché fin quando lui si siede davanti ed è sicuro al centro del lode lasciamo per il centro del lode ma è sicuro in effetti che diventerà non so un corso universitario qualche più comunque diventare quello che lui vuole diventare e viene sbattuto in un mondo dove non sa praticamente nulla ok come mamma e papà che ti dicono che questo è la porta se non ti trovi un lavoro tra sei mesi ti caccio via e poi si capirà anche perché cosa succede questo l'atteggiamento di questi genitori vorrei spostare l'attenzione sullo stile che tu hai scelto per scrivere questo libro perché perché indubbiamente abbiamo mostrato delle sfaccettature piuttosto diciamo si forti però scegli un linguaggio in primo luogo ci sono moltissimi dialoghi quindi il tutto non viene raccontato da una voce da un terzo o da una prima voce per così dire ma sono i fatti che si palesano si raccontano attraverso questi dialoghi e poi si ha proprio l'impressione di trovarsi in presenza di una quasi spy story c'è un po' questo atteggiamento spy story surreale cioè ci sono tante cose anche nello stile questa è una scelta che tu hai operato consapevolmente perché ti rendevi conto che diversamente la storia così imponente poi ne avrebbe risentito o poteva risentirne oppure è venuta così è proprio è casuale ti è nata in questo modo io ho il programma altri diciamo lavorando su altri lavori in questo momento e ti posso chiaramente dire che il dialogo è la base diciamo di un lavoro perché l'introspezione è una cosa straordinaria forse però sai se guardano molti personaggi non neanche uno solo è chiaro ci sono momenti in cui bastiano parlare penso di Svenza si il discorsivo si la greta eccetera ok però rendere l'idea ok il marasma in cui realmente è lungo e le persone che stanno intorno io secondo me il dialogo è l'unico modo lo scontro lo scontro con le persone eccetera il momento in cui magari ne diciamo un'altra quando lui sta all'università un po' nascosto perché per non farsi vedere dalle altre ragazze eccetera quindi è proprio questa situazione che secondo me vanno raccontate parlate gli studenti devono parlare perché con i dialoghi si può secondo me evidenziare e farne il fuori chiaramente chi è il tizio chi è il caio e chi è il sentorno e poi sono scusami i personaggi che parlano non c'è qualcuno che li interpreta e sono diretti si mostrano come se parlassero da soli allora io posso infatti perché questo diciamo soggetto io l'avevo presentato inizialmente a delle cose che di tre cinese al cinema nel cinema perché è nato diciamo il progetto diciamo si è accettato cinema nocato ah questo non lo sapevo lo apprendo si si poi l'ho dovuto diciamo di modellare al romanzo ma non mi ha la curiosità di cambiarlo diciamo perché secondo il mio punto di vista il dialogo quando sono colpi di scena continui come anche su reale è vero non è possibile anche perché io volevo dare diciamo l'idea di un ragazzo di alcuni ragazzi che non trovano pace perché lui non trova pace infatti in alcuni diciamo indizi negativi che ho dato utilizzando il libro ho detto che lui corre 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 in continuazione corre corre e quindi è la rilea della corsa e della pace che non trova la troverà diciamo in un secondo momento e non aggiungiamo altro invece voglio scusami c'è una mosca siamo in un posto bellissimo in un gomare di salerno però ci sono infetti e noi li cacciamo via quando ci danno fastidio vorrei anche accennare a uno spazio facebook che tu hai nel quale continui in questa direzione nel senso che dai spazio a chiunque voglia promuovere il proprio libro e lo fai in un modo particolare lo hai fatto anche con me recensisci molto bene infatti te l'ho detto privatamente te lo dico anche pubblicamente però hai trovato un modo attraverso le copertine che è una cosa che io trovo molto interessante perché la copertina di un libro è il biglietto da visita forse più della quarta di copertina è quello che gli appassionati della lettura forse che non sono determinate ad acquistare quel libro quindi attraverso la copertina fanno una selezione fanno una scelta e tu sulla tua pagina hai scelto questa formula come ti è nata questa idea che risposta stai avendo ti ringrazio la domanda perché è una cosa veramente che sento sento molto è nata diciamo perché il mondo editoriale è molto difficile molto difficile soprattutto per gli esordienti aggiungo quindi secondo me la visibilità è in effetti il pane è l'ossigeno il sangue se un libro lo mantengo nel cassetto può essere anche un libraccio ma affinché non si capisca che un libraccio deve essere visto essere letto e quindi io so di molti amici amici miei autori che hanno scritto ma molto più di me io ho scritto in questo senso più di un libro molto più di me ma chi lo sa non sa nessuno lo sa noi parenti e si sanno su Amazon però non hanno un supporto di un certo tipo non voglio dire che il bestseller voglio dire non so è chiaro che in tutto sciogliono le giuste amicizie la visibilità è importantissima molto importante e io sto cercando di dare a chi agli esergini soprattutto la possibilità di dire guarda io esisto le altre persone guardano giù hanno vergogna tanto bello che io dico ma non essere così timido perché attenzione fa anche darsi che tu hai in mano un libro che è veramente ok ma se tu ne hai diciamo quasi vergogna e ti lo tieni nel cassetto io buono sai non è che siamo eterni ma io lo conosco per il tuo figlio perché magari non gli ne fregerà sicuramente nulla del tuo libro ok e cosa sarà basso con quella fatica che tu che hai dato che sei un'attrice anche tu sai benissimo quanto fatica tu che hai fatto un libro bellissimo che ho letto straordinario quindi io credo che tu ricorderai la fatica che hai e allora sai a cosa sarà basso se vuoi magari me lo tengo così me lo tengo stretto dico no no ho vergogna di fartelo vedere no 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 fallo vedere ma poi sembro giuditi male amen amen ok i libri sono fatti anche per essere giudicati ma allora dico però perché perché in effetti non darti una possibilità allora sto cercando di far uscire fuori dal guscio di queste persone che sono molto timide ok e che nei loro gruppi parlano giustamente dicono come diavolo devo fare io per emergere allora attenzione perché se c'è una possibilità ok ragazzi non è che io non ho molto follow però non vuol dire la facebook è una piazza virtuale quindi sicuramente c'è più secondo me ha due funzioni il tuo la tua azione sicuramente quella che hai detto ma anche quella di creare una rete tra autori gli autori a volte sono un po' si squadrano non si non fanno squadra invece secondo me dovrebbero farlo non è facile mi rendo conto soprattutto quando c'è difficoltà a riuscire a proporsi però si può fare vorrei tornare perché ci avviamo alla conclusione al al tuo libro allora una domanda che a volte faccio agli autori hai scritto questo libro chi vorresti che lo leggesse la prima risposta a tutti ma quando l'hai scritto io credo che ogni autore abbia un pubblico nella sua testa certo numeroso però a volte ha degli interlocutori che vorrebbe scuotere nel tuo caso c'è qualcuno in particolare? la persona in effetti parlavamo prima di timidezza la timidezza potrebbe essere anche una virtù per la mia vita però secondo me ti limita moltissimo ti limita perché possiamo avere a volte il coraggio anche di rischiare una figuraccia rischiare una figuraccia perché poi magari alla fine ti scoprono ok e tu magari capisci che proprio diciamo una nudità non sei se andassi in mano a queste persone e capissero che vale la pena rischiare una brutta figura lui ne fa tante ok però vive 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 sì vive perché poi si rischia veramente di diventare bastiano e diventare quest'altro uomo poi alla fine il rammarico ecco a me è venuto in mente Don Quixote che poi si trova benissimo come finisce beh capire alla fine ok che si è sbagliato ok appunto quando ormai si si è supponato di morire non vale nulla ok quindi la vita è una possibilità l'unica che abbiamo giochiamoci a tutte quanto perché poi noi è concludo noi possiamo fare fessi a tizio a cazzo intorno ma noi stessi no non è secondo me un diciamo una testimonianza di di spavalderia o di che cosa perché cioè capire di essere bravi in alcuni ambiti non è né un peccato cristiano né un assolutamente vorrei concludere in questo modo vorrei che tu leggessi proprio dall'inizio fino a qui e poi lasciamo chi ci seguirà ok anno 2000 dopo Cristo Roma bastiano è un ragazzo di 17 anni vive con il padre Angelo 53 anni vicesteriattore di un'azienda chimica e la madre Flavia 48 anni parrucchiera figlio unico fin dall'infanzia all'ia della fisiologica finessia ha mostrato un livello di maturità di una spagna al di sopra dei suoi poietani quando poi ha cominciato la scuola dell'obbligo ha immediatamente evidenziato una diligenza fuori dal comune tanto che coloro i quali lo hanno di volta in volta seguito parlando con i genitori non hanno mai esitato di definirlo un enfant prodigio ma il padre si è sempre opposto con tenacia a tale termine e questo per imitare che suo figlio diventasse un feromero da barracone Antonio Evaristo l'altro uomo il peso delle parole dialoghi edizioni grazie a tutti